Direttamente da Japan, come sei? Ciao! Gli piace questa stage in Prato Nevoso? Molto bene, molto bene! Sono le Paralimpiadi estive di Tokyo ma siamo anche a pochi anni da quelli invernali di Pechino 2022 per cui questi sono tutti italiani che ovviamente stanno puntando nella loro carriera sportiva quello che è il palcoscenico più importante che una Paralimpiadi. Una splendida location, splendidi impianti, tutto arricchito da un sole meraviglioso e per quanto riguarda gli italiani anche da risultati che sicuramente sono estremamente positivi.